Incomincia di schiena questa intervista a Raffa Polì Dopo le prime parole adesso dice qualcosa Vuoi salutare Macchia? Macchia, Macchia, amore Macchia, Macchia No, è il primo che lì Tu diceva anche Schotze Schotze vuol dire tesoro Tutto il giorno Schotze? Quindi un saluto? Laide vorrebbe fare un Kreutz for Rez Solo che non riesce a pronunciarlo Un Kreutz? Kreutz for Rez Sembra coi te interrotti te ditte Kreutz Kreutz Apre la bocca Sto mangiando il biscotto Quello è il più russo Meoni Dici qualcosa Un saluto ai Volley In tedesco da Raffa Polì Schotze 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 Schotze